La sfida del mercato euroasiatico e del corridoio ferroviario dell'Adriatico. Sono stati questi i due focus della quarta edizione del Forum Pietrarsa, promosso da Asso, Fere e Confetra, andati in scena quest'anno a Trieste, al molo quarto della stazione Passeggeri. L'occasione, come accade ormai da quattro anni a questa parte, è stata colta anche per fare il punto sul sistema ferroviario complessivo del nostro paese, al suo interno e anche nei suoi collegamenti con l'estero, nello specifico appunto verso l'Asia. Gli organizzatori chiedono di spingere sempre di più sul ferro per il trasporto merci, considerato il mezzo più sicuro, veloce e quello con il minore impatto ambientale. Noi vogliamo vincere innanzitutto la sfida a favore del trasporto ferroviario in Italia, quindi un riequilibrio multimodale a favore del ferro. Questo implica non soltanto una correzione del sistema degli incentivi, ma soprattutto pensare in ferro, essere capaci di riportare il ferro là dove stanno i siti industriali, ad esempio rafforzare anche i terminal minori, favorire il più possibile il trasporto diffuso, il traffico diffuso. Abbiamo scelto di venire a Trieste proprio perché, come lei ricordava, siamo alla testa dell'area adriatica, che è quella che più soffre di carenza infrastrutturale ed è un paradosso, perché come sentiremo attraverso questo studio che abbiamo commissionato, di fatto tutta la dorsale adriatica è un susseguirsi di tessuto produttivo industriale e che ha bisogno di un'infrastruttura adeguata per il trasporto merci, aggiungo che sarebbe molto importante per lo sviluppo del nostro Sud, perché poter connettere in maniera efficiente la Puglia con i mercati settentrionali significa dare un grande sbocco, anche occupazionale, importante. Terzo step, naturalmente dall'adriatico vogliamo guardare ad est, perché la sfida immediatamente prossima è quella appunto con l'Eurasia, vogliamo dire così. In questo momento il mercato è dominato senz'altro da un lato della Cina e dall'altro dalla Germania, l'unico paese europeo che ha preso veramente sul serio l'infrastrutturazione ferroviaria. Noi siamo orgogliosi dei nostri cugini tedeschi, ma vogliamo essere almeno altrettanto importanti. Il ministro De Micheli recentemente ha detto binari in ogni porto e aeroporto della penisola, l'ho detto da Expo Ferroviaria. È un obiettivo effettivamente realizzabile? Stiamo parlando di utopia? È quello che serve? È un obiettivo senz'altro realizzabile positivo e non sufficiente, perché noi vogliamo invece binari anche nei siti industriali. Questo perché i porti e gli aeroporti, moltissimi lo sono già per la verità, connessi con la rete ferroviaria. Quello che invece manca, ed è un grave danno che ci siamo inflitti da soli in passato, è avere troncato tutte quelle connessioni che sono molto importanti per raccogliere ciò che viene prodotto nei siti industriali. Perché io devo poter caricare dall'industria direttamente sul treno, con poche rotture di carico, direttamente sul treno per raggiungere poi la rete maggiore. Fu ritenuto un sistema non efficiente, in realtà andava migliorato, non ucciso, perché uccidere quello ha significato togliere capillarità e quindi linfa vitale all'intero nostro sistema. Rivolgiamo a quello. Un ruolo di collettore fra est e ovest, nonché di polo logistico di tutto il paese. Questa è la missione che durante il forum di Pietrarsa il ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha ritagliato per Trieste. Trieste dà già molto e soprattutto in linea con quelle che sono desiderate di questo governo, la tipologia degli investimenti che abbiamo previsto anche nella legge di bilancio e nelle note di aggiornamento degli investimenti di RFI, una città già infrastrutturata così può potenziare ulteriormente il suo ruolo di collettore tra est e ovest e il suo ruolo logistico nel nostro paese. Credo che anche molti degli argomenti usati questa mattina e oggi in questo momento di analisi e di studio anche numericamente supportino questa scelta e questa tesi e questo ovviamente migliora le possibilità incrementi, le possibilità di sviluppo e anche di attrazione di investimenti stranieri e privati. Una sfida, quella del corridoio adriatico e del suo collegamento verso il mercato euroasiatico che si gioca tutta sul ferro e che la rete ferroviaria italiana è pronta a cogliere al servizio di una dorsale sulla quale si innestano alcuni fra i principali scali del paese. Beh, è una sfida che si può vincere, per vincere dobbiamo finire tutte le nostre attività che sono il potenziamento del corridoio per avere tutti i moduli, tutte le sagome secondo gli standard europei. Però è una sfida che si vince facilmente perché su questo corridoio ci sono tre porti importantissimi Trieste, Venezia e Ravenna che da soli sono al primo posto, al terzo, al quarto posto per movimento complessivo di merci in termini di tonnellate. Quindi è veramente un'area molto importante. Noi stiamo facendo quello che dobbiamo fare, potenziando il porto di Trieste. A Marghera abbiamo un progetto per svincolare il porto dal sistema ferroviario pendolare e a Ravenna il potenziamento in destra di Canale Gandiano. Quindi sono tre cose molto importanti. I tempi di realizzazione sono assolutamente congruenti con l'attivazione del corridoio. Ci saranno alcune cose che saranno disponibili nel 2021, altre nel 2023, altre nel 2025. Poi le cose infrastrutturali più pesanti bisognerà aspettare il 26-27. Trieste gode già, in questo senso, di una spinta decisa verso il ferro. Il suo porto è quello che in Italia movimenta più merce proprio via ferrovia e il presidente dell'autorità di sistema, Zeno D'Agostino, vuole spingere ancora di più in questo senso per rendere il porto giuliano sempre più modello nella penisola e metterlo in condizione, come già sta accadendo, di rubare il traffico agli scali del nord. Sì, perché parliamo sempre dei numeri dei treni. Quello che va effettivamente sottolineato è che il porto di Trieste non ha problemi dal punto di vista della capacità ferroviaria, nel senso che noi possiamo pensare di arrivare almeno fino a 14.000 treni in questo momento. Quest'anno arriveremo a circa 10.600-10.700, quindi ce n'è ancora. Ma soprattutto in termini di capacità parliamo sia di lunghezza treni che di gabarit, cioè di quella che è la sagoma dei treni. Noi oggi siamo in grado di mettere sui treni semirimorchi, non è una cosa che possono fare tutti in Italia. Trieste lo può fare e lo facciamo tantissimo, il 50% dei nostri servizi intermodali è collegato ai semirimorchi turchi perché noi possiamo, abbiamo tutta una serie di tunnel che da qui arrivano fino al nord Europa che non hanno problemi da questo punto di vista. Quindi la capacità c'è, il problema è che chiaramente abbiamo grandi investimenti che stanno arrivando sul porto e che stanno determinando un'espansione a est del porto che creerà già con il 2020 la nuova piattaforma logistica con lo Scallo Legnami piuttosto che gli investimenti degli ungheresi per quanto riguarda l'area Teseco e tutta una serie di iniziative che sono in corso, abbiamo bisogno di allargare e ampliare tutta la capacità ferroviaria anche sulla parte orientale. Su questo già tra un paio di mesi sarà operativo il tunnel ferroviario che esisteva ma non era operativo, che permette ai treni di arrivare anche su quella parte. Da quel punto di vista si sta già programmando con RFI la messa in funzione della vecchia stazione di Aquilina che però è vecchia ma ha binari da 750 metri e quindi anche questa verrà rimessa in funzione e RFI ha già finanziato il progetto e sarà un progetto che verrà fatto in maniera molto veloce. Abbiamo anche la presenza dei cinesi che comunque vogliono sviluppare un terminal intermodale su alcuni binari di quella stazione, non lo gestiranno loro, questo è importante da dire però l'investimento sarà sicuramente qualcosa che stiamo trattando con loro quindi alla luce anche degli accordi fatti a marzo, questa è una cosa che va avanti e abbiamo poi dopo un leggero mutuo con BEI che è l'autorità portuale di circa 60 milioni di euro che l'autorità portuale ha fatto con la BEI, di questi un 20% è finanziato con fondi CEF sono circa 12 milioni ma a questi 60 di cui 12 finanziati a fondo perduto aggiungiamo più di 130 milioni di RFI quindi arriviamo a circa 200 milioni di investimenti già finanziati e in fase di progettazione e in alcuni casi già in fase di realizzazione che permettono al porto di arrivare a pensare nel 2023 ad avere una capacità di 25.000 treni da 750 metri. Porti e interporti che spingono sulla ferrovia, Trieste e nel secondo caso Bologna che del trasporto intermodale ha fatto una vera e propria bandiera concentrandosi in particolare sulla strada ferrata ultimo esempio in ordine cronologico è il Mercitalia Fast la merce che viaggia sulla linea ad alta velocità di notte andando da Marcianise, provincia di Caserta, al capoluogo emiliano e viceversa in tre ore. In Interporto Bologna noi abbiamo 600.000 metri quadrati di terminal ferroviari se pensiamo che la superficie totale di Interporto Bologna è pari a 4.200.000 metri quadrati capiamo l'importanza dell'intermodalità ferroviaria per Interporto Bologna abbiamo diversi treni di trasporto combinato non accompagnato di convenzionale e di alta velocità che è il Mercitalia Fast che è l'ultimo gioiello che stiamo lanciando con buoni risultati. Noi crediamo alla ferrovia, crediamo al fatto che ed è il nostro punto di forza in Interporto Bologna si possa fare più modalità di trasporto merci quindi trasporto da punto a punto combinato non accompagnato il convenzionale diffuso, classico e l'alta velocità che è più concorrenziale rispetto al tuttostrada e la presenza qui quest'oggi è per fare il punto della situazione soprattutto sullo sviluppo infrastrutturale della rete per cogliere eventuali sfide come peraltro noi siamo abituati a fare e il Mercitalia Fast ne è un esempio eclatante. A tirare le somme il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia l'unica politica anticiclica possibile in questo momento è quella di aprire i cantieri per sviluppare le infrastrutture che servono all'Italia. Quello che stiamo chiedendo a livello paese è spostare l'attenzione sul nodo infrastrutturale lo stiamo dicendo da tempo ci sono risorse già stanziate che secondo la nostra associazione nazionale costruttori ammontano a circa 70 miliardi di euro per opere infrastrutturali di valore superiore a 100 milioni occorre cantiere per cantiere fare una verifica individuare una procedura che vada oltre lo sblocca cantieri e attivare immediatamente queste opere pubbliche. La grande svolta del paese è una grande politica anticiclica sono mesi che stiamo parlando d'altro senza affrontare i grandi fondamentali dell'economia del paese a partire dal nodo infrastrutturale che è l'unica grande politica anticiclica che possiamo fare all'immediato.